Torna la stagione teatrale dell'Auditorium Sirena sotto la direzione artistica del compositore e regista Davide Cavuti. Nove appuntamenti in cartellone con la partecipazione di grandi nomi del mondo dello spettacolo, grazie al sostegno dell'assessorato alla cultura e dell'amministrazione comunale di Francavilla al Mare guidata dal sindaco Luisa Russo. Dopo le due ultime saltanti stagioni artistiche che hanno visto la presenza di grandi nomi quali Giancarlo Giannini, Sergio Camariere, Uto Ugi e la stagione online Pillole di Teatro, la nuova programmazione dell'Auditorium Sirena vedrà tra i suoi protagonisti artisti molto noti al grande pubblico con spettacoli di primissimo livello e di contenuto. Siamo molto felici di aver fatto questo cartellone che ha due caratteristiche importanti, la qualità degli artisti che prendono parte alla stagione, la qualità dei loro spettacoli e poi è rivolto ad un pubblico variegato soprattutto al mondo dei giovani. I nomi ce ne sono tanti, da Lina Sastri a Monica Guerritore, Enrico Rava che suonerà in coppia con il pianista Fred Ersch, John Sarman, un mito del sassofono, jazz, 77 anni, grandissimo musicista britannico e poi Peppe Servino con un omaggio a Lucio Dalla, due spettacoli rivolto al mondo giovanile, mi riferisco a Francesco Montanari, libanese del romanzo criminale ma un attore molto amato da tutti, con un omaggio a Italo Calvino e poi Giulia Michelini con la sorella Paola Michelini, una produzione Teatro Sabile d'Abruzzo insieme a Stefano Francioni che proporrà uno spettacolo sulla figura femminile. Ecco, questo credo sia il nostro let motive, spero che il pubblico possa recepire questo nostro messaggio. Il cartellone è stato stilato ovviamente in collaborazione con l'assessorato allo cultura del Comune di Franca Via al Mare, con l'amministrazione guidata dal sindaco Luisa Russo che ringrazio e speriamo di ripartire con grande slancio, sempre rispettando le norme ovviamente anti-Covid che sono in vigore. Un cartellone di rilievo che serve anche per rilanciare la struttura di Palazzo Sirena a Franca Villa? Devo dire che questa struttura ha continuato a vivere, anche durante per esempio il periodo del lockdown noi abbiamo proposto pillole di teatro, una rassegna online con Lino Guanciale, Edoardo Siravo e tanti altri, poi abbiamo ospitato delle prove generali qui con Anna Foglietta, Lino Guanciale, Vanessa Gravina, quindi un teatro che è vivo. Io l'ho definito l'affresco nuovo della nostra città e insieme al sindaco Russo e all'assessore Rapino secondo me andremo in questa direzione, questo è un punto nodale per la nostra comunità quindi senza teatro, senza cultura si vede sicuramente meglio, qui è il luogo dove poter sognare, poter identificarsi in quei personaggi e poter anche riflettere e mi auguro che questo possa accadere con questa programmazione. Grazie. 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 Grazie.